cari amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi la giornata è dedicata prevalentemente ai fatti interni da seguire con la massima attenzione e poi capirete il perché partiamo subito invece con qualche notizia dall'estero nel corso dell'ultimo anno l'intelligence statunitense ha aumentato gli attacchi informatici contro il sistema energetico russo lo riferisce il new york times questi attacchi afferma l'articolo sono avvenuti attraverso software capaci di raccogliere quante più informazioni possibili sul sistema energetico russo e possibilmente disattivare alcuni dei suoi elementi alcuni funzionari hanno descritto l'intento di queste operazioni come un segnale da dare alla russia altri invece lo ritengono una presa di posizione degli stati uniti per rispondere nel caso putin divenisse più aggressivo la questione cruciale è quanto in profondità della rete russa gli stati uniti sono riusciti a infiltrarsi questo sostiene l'articolo in precedenza il new york times aveva pubblicato un altro articolo in cui affermava che i servizi segreti statunitensi avevano incrementato significativamente i tentativi per contagiare con programmi dannosi la rete energetica della russia il presidente americano donald trump ha invece dichiarato che la notizia del new york times è falsa queste alcune delle sue parole su twitter riuscite a crederci che il decadente new york times abbia pubblicato un articolo in cui si afferma che gli stati uniti hanno aumentato in modo significativo gli attacchi informatici contro la russia l'articolo è in realtà un tradimento di un giornale una volta grande che ha così disperatamente bisogno di notizie sensazionali anche se danneggiano il paese inoltre non è vero oggi i media corrotti sono pronti a tutto faranno o diranno qualsiasi cosa senza pensare alle conseguenze sono dei vigliacchi e senza dubbio sono nemici del popolo secondo i dati aggiornati del ministro degli interni tedesco erst siehofer le richieste di rimandare indietro profughi in italia sono state nel primo trimestre del 2019 ben 4.602 il 33 per cento del totale delle domande fatte arrivare a tutti gli altri partner dell'unione europea soprattutto un boom del 50 per cento rispetto al trimestre precedente secondo il quotidiano la repubblica anche gli ok del ministro salvini a siehofer stanno crescendo 3540 tra gennaio e marzo contro il 2629 del periodo precedente per quanto riguarda i trasferimenti effettivi stanno avvenendo invece a ritmo regolare sono stati 1114 tra novembre e marzo cioè 557 a trimestre il 28 per cento circa del totale l'inchiesta di tonia mastro buoni da berlino rivela anche un'inquietante ipotesi il timore è che i profughi vengano sedati per evitare che si ribellino ai trasferimenti e che subiscano dei maltrattamenti tra i profughi scrivere pubblica gira la voce che sia meglio non accettare bottigliette d'acqua prima di salire sugli aerei perché potrebbero contenere calmanti o sonniferi a detta di alcuni testimoni i metodi usati dal governo tedesco sono stati fin troppo coercitivi alcuni migranti hanno riferito che i poliziotti tedeschi li hanno prima buttati per terra per ammanettarli e poi dopo averli sedati li hanno messi su un volo per roma raffael reichel responsabile di un'associazione che difende i migranti in germania ha detto sì ci sono probabili sedazioni per impedire che fuggano o che si ribellino ai trasferimenti quindi come avevamo già facilmente intuito da tempo il governo della merkel ci rimanda indietro i profughi senza troppi complimenti e usando le maniere forti il pugno di ferro della germania però stride con le lezioni di buonismo impartite in tutta europa giorgia meloni reduce dal fresco successo elettorale di cagliari dove ottenuto il 12 per cento attacca la merkel denuncia a chiare lettere la germania aumenta i rimpatri degli immigrati clandestini come li sedano li ammanettano e li spediscono in italia ecco la strategia dell'idolo degli europeisti angela merkel scaricare il problema sicurezza e immigrazione della germania sulla nostra nazione questa volta onu unione europea e associazioni varie non hanno nulla da dire sui diritti dei migranti tutto questo mentre una ong tedesca la si watch continua a traghettare immigrati in italia il governo si faccia rispettare in europa la soluzione è non far arrivare i clandestini in italia con un blocco navale europeo cosa aspetta l'italia a chiederlo e cosa aspetta il governo a istituire i centri sorvegliati per clandestini come quelli già istituiti nella civilissima germania basta perdere tempo il senatore di forza italia francesco giro aggiunge lo scoop di repubblica fa venire i brividi il quotidiano ci rivela che il governo tedesco della merkel obbediente alle regole insensate dell'accordo di dublino spedisce in italia immigrati entrati clandestinamente in germania ma giunti in italia come paese di primo approdo il sistema tedesco è violento e ci riporta indietro alle tragedie del secolo scorso gli immigrati se si ribellano vengono gettati a terra dai poliziotti tedeschi immobilizzati ammanettati e sedati e condotti negli aerei storditi è un vero schifo salvini deve reagire e immagino reagirà con furore secondo i dati di eurostat l'italia potrebbe essere definita la locomotiva d'europa affermazione sorprendente per alcuni e forse un po provocatoria in effetti ma certamente si basa sui freddi numeri che riferiscono come il pil pro capite del 2017 sia ben sopra la media europea nelle regioni del centro nord italia che qui vedete colorate in azzurro più la tinta è accesa e più alti sono i redditi il sud e le isole sono invece al di sotto della media europea ma se a questi dati complessivamente buoni aggiungiamo che in italia e soprattutto in certe regioni vige un'economia sommersa difficilmente sensibile allora non troviamo del tutto fuori luogo definire il nostro paese come una delle poche locomotive d'europa e provate ad immaginare dove saremmo se in questi ultimi vent'anni avessimo potuto come in tutti gli altri paesi fare politiche espansive anziché di austerity e di avanzo primario dando uno sguardo ad altri paesi ritenuti economicamente più forti dell'italia come la francia ci rendiamo invece conto che il pil pro capite medio è al di sotto della media europea in quasi tutta la francia colorata di un bel rosso arancione giallo in buona parte come del resto lo è in tutta la germania dell'est e in tutta la grecia ovviamente ma anche in quasi tutta la spagna e infine udite udite in buona parte del regno unito nonostante l'euro forte abbia danneggiato soprattutto la nostra economia e nonostante le politiche vessatorie di austerity che la commissione europea ci ha imposto e ci impone l'italia non è stata abbattuta anzi il nostro paese ha mostrato una forte resilienza nonostante tutte le condizioni ostili al punto da poter parlare di miracolo italia ora è giunto il momento di poter immaginare tutto il territorio nazionale tinto di azzurro magari blu un gruppo di parlamentari laici di diversi partiti ha presentato una mozione che intende rivedere i rapporti con la chiesa cattolica nella mozione a firma di riccardo nencini emma bonino e dei 5 stelle maurizio buccarella elena fattori e matteo mantero oltre ai pd roberto rampi e tommaso cerno loredana de pretis di leu e carlo martelli del gruppo misto si elencano quattro punti dibattuti inutilmente da diversi anni e sono questi primo abolire l'ora di religione e sostituirla con un'ora obbligatoria di educazione civica secondo chiedere formalmente alla conferenza episcopale italiana di avviare la procedura per modificare i criteri con cui viene attualmente ripartito l'otto per mille grazie a questo meccanismo la quota non destinata viene risuddivisa percentualmente a seconda delle destinazioni indicate dai contribuenti con il risultato che in metà dell'ammontare arriva sempre alla chiesa cattolica terzo rivedere le norme sull'imu sui beni immobili della chiesa cattolica quarto intraprendere un'azione determinata a dare attuazione alla recente sentenza della corte europea recuperando l'ici non pagata dalla chiesa negli anni passati nella mozione si legge inoltre tutti questi privilegi per la chiesa cattolica contrastano con la crescente secolarizzazione della società italiana dove i cattolici praticanti sono circa il 30 per cento della popolazione e scendono al di sotto di questa percentuale tra i giovani la riforma dell'esm discussa e approvata dall'eurogruppo a lussemburgo attuerà il passaggio dall'attuale fondo salva stati che interviene dopo lo scoppio di una crisi sovrana a fondo di prevenzione e rete di sicurezza anticrisi bene direte voi ma aspettate a dirlo il meccanismo europeo di stabilità post riforma avrà un mandato più ampio e opererà al fianco della commissione europea sarà così più coinvolto nella valutazione preventiva della sostenibilità dei debiti pubblici degli stati dell'eurozona primo rischio per l'italia secondo pericolo l'esm avrà inoltre un nuovo ruolo nella risoluzione e risanamento delle banche mettendo a disposizione del fondo di risoluzione bancaria unico europeo un prestito backstop tra i 55 e i 60 miliardi questo paracadute che agirà come risorsa di ultima istanza potrà essere regolato in sole 24 ore e se pensate che non sia stato studiato apposta per salvare deutsche bank e le altre banche tedesche ma serva a proteggere le banche italiane beh toglietevi pure gli occhiali rosa e guardate in faccia la realtà le due esistenti linee di credito precauzionale pccl ed eccl finora mai usate avranno in prospettiva un potere deterrente più forte e una modalità di utilizzo più agile verranno modificate in modo tale da consentire alla prima pccl di poter essere richiesta ed eventualmente attivata senza la firma di un memorandum of understanding dunque senza condizionalità come avviene ora da paesi che non hanno squilibri macroeconomici e fiscali ma che sono colpiti da shock improvvisi sul mercato oppure finiscono sotto attacco speculativo nonostante siano virtuosi e fondamentalmente solidi quindi l'italia ne sarebbe esclusa come anticipato tempo fa ma l'italia potrebbe accedere alla seconda linea di credito eccl post riforma i cui criteri di elegibilità dei paesi richiedenti saranno meno stringenti e la condizionalità meno severa rispetto a un programma pieno di bail out ma resterà però la firma del memorandum of understanding per entrambe queste linee di credito precauzionali resta invariata la portata deterrente la sola richiesta di averla a disposizione dovrebbe bastare allo stato in difficoltà per bloccare sul nascere un attacco speculativo l'esm riformato avrà anche un ruolo più attivo nel salvataggio degli stati perché firmerà assieme alla commissione europea il memorandum of understanding e la condizionalità dei programmi di aiuto totale si occuperà al fianco della commissione del monitoraggio e della valutazione della sostenibilità del debito pubblico degli stati anche in via preventiva di qui l'importanza di avere un presidente e numerosi commissari amici cosa che pare non essere il nostro caso la troica non esisterà più verrà meno anche il coinvolgimento diretto della bce mentre l'intervento del fondo monetario internazionale sarà valutato caso per caso buone notizie per prevenire e gestire le crisi ma studiate ad hoc per paesi ritenuti virtuosi e banche in difficoltà l'élite di francia e germania non potevano ideare un piano migliore per salvaguardare i propri interessi la germania continua attivamente a fornire di armi i paesi del medio oriente e del nord africa nonostante le limitazioni concordate all'interno della coalizione di governo lo segnala oggi l'agenzia dpa con riferimento ai dati del ministero dell'economia a partire dal primo gennaio 2019 berlino ha approvato ben 56 contratti con l'egitto e gli emirati arabi il salario minimo si farà perché nel contratto di governo e perché già esiste in molti paesi europei lo assicura il ministro del lavoro luigi di maio in un post su facebook nella legge catalfo del movimento 5 stelle prevediamo di fissare per legge una soglia di almeno 9 euro lordi l'ora al di sotto della quale non si può scendere in sostanza contratti da 3 o 4 euro l'ora come se ne vedono oggi non saranno più consentiti perché 3 o 4 euro l'ora non è lavoro è schiavitù perché non sia stato affrontato prima non è dato saperlo ma ora lo ha fatto il movimento 5 stelle dopo anni di inerzia presentando una legge che si rivolge a circa 3 milioni di persone tra cui camerieri giardinieri pizzaioli magazzinieri dipendenti comuni non apriamo scontri apriamo un confronto sano invece per trovare un punto di caduta che principalmente abbia lo scopo di restituire dignità ai lavoratori e arginare ogni proposta indecente al limite della schiavitù un confronto che porti anche a premiare quegli imprenditori onesti che con il loro sudore portano avanti la nostra economia i prossimi obiettivi giù le tasse e stipendi dignitosi washington è certa del coinvolgimento dell'iran nell'incidente di due petroliere nel golfo di oman e intende rendere pubbliche le presunte prove questa affermazione è stata fatta domenica in onda sulla fox da mike pompeo segretario di stato degli stati uniti è perfettamente ovvio cosa sia successo lì ha detto il segretario di stato secondo lui questi sono attacchi della repubblica islamica dell'iran non c'è dubbio la comunità di intelligence ha una grande quantità di dati e prove il mondo vedrà la maggior parte di queste aggiunto il segretario di stato bene attendiamo anche noi con curiosità di vedere queste prove il prima possibile ovviamente nel frattempo pompeo ha dichiarato l'iran dovrebbe chiaramente capire che continueremo a prendere provvedimenti per evitare che si comporti in questo modo il presidente trump ha esplicitamente dichiarato che l'iran non otterrà armi nucleari questo è l'obiettivo della nostra intera campagna contro l'iran ha anche aggiunto che gli stati uniti intendono garantire la libertà di navigazione nella regione e che sono pronti a prendere tutte le misure necessarie in ambito diplomatico e in altri ambiti il leader della lega matteo salvini a washington per gli incontri con il vicepresidente americano mike pence e col segretario di stato usa mike pompeo non perde di vista il braccio di ferro con europa le risorse per la flat tax ci devono essere non è una scelta al massimo si possono rimodulare i tempi ma sul tema economico le parole del ministro si fanno dure l'unione europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla cina l'italia non è la grecia e bruxelles se ne farà una ragione faccio parte di un governo che in europa non si accontenta più delle briciole il nostro paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale dal taglio delle tasse a rilancio dell'economia locale vorrei che chiaramente in piccolo il governo italiano applicasse una ricetta come quella adottata dall'amministrazione statunitense già dalla prossima manovra riguardo la cina salvini ha detto il business non è tutto porta benefici a medio termine che poi possono diventare una gabbia la penso come trump sulla sicurezza e sui dati degli italiani e sulla loro sicurezza non si transige chiudiamo la visita del ministro degli interni con quanto detto riguardo la russia sarebbe un errore strategico sia commerciale sia geopolitico allontanare la russia dall'occidente per lasciarla nelle braccia dei cinesi bisogna fare di tutto per riportarli al tavolo e io preferisco ragionare che tornare all'asse mosca pechino in questo momento c'è evidentemente bisogno di creare un incidente che tenga l'italia sotto un sostanziale potere di ricatto ti faccio la procedura se tu non accetti una serie di cose lo ha detto il presidente della commissione finanze del senato alberto bagnai a mezz'ora in più a questo atteggiamento ricattatorio mafioso se dovessero evidenziarsi dinamiche di questo tipo non dico che siano di questo tipo ma se si dovesse vedere che l'attacco al nostro paese è pretestuoso sono il primo a dire ma lo farebbe senza che nessuno glielo dica che il ministro tria opporrebbe un fermo no riguardo a un suo possibile futuro ruolo di ministro degli affari europei bagnai ha prudentemente detto per quel che ne so io ad oggi sono fonti giornalistiche io in senato sto molto bene sto lavorando anche su temi europei quindi non avrei particolari né reticenze né ambizioni se mi verrà chiesto dovesse venirmi chiesto oggettivamente per vicende di vario tipo nel governo si sono liberate alcune posizioni quindi a prescindere del rimpasto ci sono un ministro quello degli affari europei e due sottosegretari che devono essere sostituiti e attribuibili all'area lega io sono entrato in politica non per affermare le mie idee ma per mettermi a disposizione anche bagnai come borghi non fa mistero delle sue forti posizioni contrarie all'euro non penso di poter decidere da solo i destini del mio paese scientificamente non rinego nulla di quello che ho scritto nelle sedi scientifiche in particolare ma politicamente devo tener conto del contratto di governo che sto aiutando a realizzare un economista non può dire che l'euro sia una buona idea e nessuno l'ha detto tranne qualche fenomeno da talk show ma un politico deve fare altre cose in attesa delle decisioni a livello nazionale ci sono già delle forme di valute regionali per primo nel 2010 è nato il sardex in sardegna giudicato un'istituzione dalla london school of economics e poi il valdex in valdaosta il tibex nel lazio il venetex in veneto il piemex in piemonte il felix in campagna e così via e c'è chi ricorda con nostalgia la valuta creata nel 2000 in abruzzo da giacinto auriti era stata battezzata simec la guardia di finanza la sequestrò ma è rimasta ancora nel cuore di molte persone che dicono che la sovranità monetaria deve essere attribuita allo stato come quarto potere costituzionale e tolta la banca centrale che la proprietà della moneta deve essere attribuita quindi al popolo in attesa della moneta parallela nazionale ci sono parecchi italiani i criminali che continuano ad operare con le vecchie lire sì la moneta italiana conclusa la sua funzione nel 2002 ma sparita ufficialmente nel 2012 è ancora quella che circola di più nel mondo mafioso a riportare la notizia è il sito americano bloomberg non l'ultimo arrivato che cita come fonte giuseppe arbore un colonnello della guardia di finanza italiana mercoledì scorso arbore ha parlato di fronte al parlamento rivelando la scoperta della guardia di finanza di un'ingente quantità di banconote del vecchio conio nelle cassaforti segrete del clan dei casalesi di napoli queste le sue parole continuiamo a scoprire grandi quantità di lire la lira italiana costituisce ancora parte di transazioni illecite purtroppo il colonnello non si è sbottonato più di tanto per non compromettere le indagini in corso tuttavia ha puntualizzato quando una banconota è accettata internamente da un'organizzazione anche se si trova al di fuori della legge in quanto a valore legale può comunque regolare le transazioni mi riferisco ovviamente a organizzazioni illegali interessante spunto di riflessione il movimento 5 stelle ha accostato l'emittente fondata da marco pannella al finanziere ungherese george soros dopo il via libera della lega all'emendamento del pd che salva almeno per ora radio radicale e la replica di luigi di maio la lega vota sì con mia grande sorpresa il movimento 5 stelle torna nuovamente all'attacco dell'emittente fondata da marco pannella come si vede nell'immagine il blog delle stelle accosta radio radicale a george soros noto per le sue posizioni globaliste e il suo spiccato interesse nel favorire l'immigrazione di massa incontrollata in europa ed in particolare in italia con grande dispiacere dei salvini si legge nel post parlando dei radicali sono quelli per cui l'economia e il mercato funzionano da soli per cui lo stato non deve intervenire in realtà sono liberisti solo con i problemi degli altri e così radio radicale o radio soros se preferite incassa altri 3 milioni delle tasse degli italiani grazie a un regalo di tutti i partiti l'india ha imposto dazi più alti su un paniere di 28 beni importati dagli stati uniti con tariffe che possono spingersi anche al 70 per cento la decisione a quanto scrive la bbc arriva in risposta al rifiuto di trump di esentare il paese da dazi più alti sull'import di alluminio e acciaio una mossa che inasprisce ancora di più i rapporti fra i due grandi paesi già incrinati dalla scelta di donald trump di porre fine a un trattato preferenziale che consentiva all'india di esportare negli stati uniti merci duty free senza dazi cioè per un valore complessivo di 5,7 miliardi di dollari in una nota possiamo leggere che il governo indiano ha precisato che è necessario per il pubblico interesse imporre un regime fiscale più oneroso sui prodotti in entrata dagli stati uniti l'intescambio tra usa e india ha raggiunto un valore complessivo di 142 miliardi di dollari l'anno scorso la cifra rischia di essere ridimensionata ora ricordiamo che la guerra commerciale di washington si è scatenata soprattutto contro la cina ma fra i vari fronti aperti da trump ci sono quelli contro l'europa compresa la guerra appena dichiarata al vino francese e quella prossima alle auto tedesche la guerra contro il messico e ora l'india cari amici iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia aiutateci a diffondere i video e a farci crescere affinché la corretta informazione venga diffusa commentate pure liberamente per approfondire le tematiche e se apprezzate il nostro lavoro nell'interesse di tutti potete sostenerci con una donazione che ci permetta di continuare questo lavoro un abbraccio dal vostro roby